Allora quando il senatore Mario Turco Tarantino, lo sottolineiamo, Tarantino fu nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e dagli investimenti, io nonostante tutto l'entusiasmo dei media della città che salutavano l'avvento di un Tarantino in un ruolo così apicale, io valutando politicamente Mario Turco espressi delle riserve abbastanza pesanti. Sono trascorsi alcuni mesi e purtroppo le mie valutazioni, le mie ipotesi hanno ritrovato, hanno avuto riscontro. Ripeto, non volevo essere certo Cassandra, profetessa di sventure, ma i fatti sono questi. Taranto ha un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, quindi diciamolo in parole povere, un numero due di Conte, un numero due del Presidente del Consiglio, eppure al di là del fumo, delle belle parole, dei castelli di sabbia del cantiere Taranto con cui Turco e company si sciacquano la bocca, qui a livello di occupazione, di sicurezza, di problematiche ambientali, quindi sicurezza e all'interno dello stabilimento Ilva, Ilva Arcelor Mittal e all'esterno, non si è fatto praticamente nulla. Ci mancava solo la mano dei giudici a consentire, a dare appunto, a concedere la facoltà d'uso ad Afo 2. Caro Mario Turco, massimo rispetto per la tua figura, per il tuo impegno, ma caro Mario Turco, una situazione come l'Ilva, che ha assunto una dimensione nazionale ed internazionale, mi devi spiegare quali sono stati i risultati che tu hai prodotto, hai apportato per la questione Arcelor Mittal-Ilva nella tua città che è Taranto. Si muore di cancro come più di prima. C'è una situazione, ripeto, a livello di sicurezza ambientale che sta precipitando di giorno in giorno, così come parimenti, parallelamente, lo stabilimento sta crollando a pezzi. Caro Turco, qual è il risultato del tuo impegno per questa problematica? È inutile che ti sciacqui la bocca, e ripeto questa espressione, parlando del cantiere Taranto, del gran libro dei sogni, di questo, di questo, di quest'altro, degli interventi del governo in vari settori, ma è un discorso futuribile. È come dire, andiamo sulla luna. È come parlare dei voli suborbitali a Grottaglie, quando invece noi vogliamo i voli civili, i voli passeggeri. Ma al di là di questa digressione, caro Turco, tu sei il numero due di Conte. Taranto, senza per carità da parte tua prevaricare su altre, ci mancherebbe altro, su altre realtà italiane, tu sei il sottosegretario di tutti, ma per Taranto cosa hai fatto? Per quanto riguarda, soprattutto, la questione Arcelor Mittal-Ilva. Massimo rispetto per te, per il tuo impegno, persona per bene, persona che si impegna, però alla fine, caro Mario Turco, io devo dire, sei come lo studente che ha studiato, che ha detto di aver studiato, che si è impegnato, però poi, purtroppo, il professore lo interroga e dice, bello mio, i risultati sono scarsi, nonostante l'impegno. Quindi, caro Mario Turco, è assurdo, lo ripeto, che Taranto ha un sottosegretario, ha la presidenza del Consiglio, quindi un padre eterno, un Cristo, dovremmo dire. E poi, per quanto riguarda la situazione Ilva, siamo piombi su tutti i pali. E a livello di sicurezza all'interno dello stabilimento, e a livello di emissioni, ritengo, Mario Turco, la tua presenza è il tuo apporto impalpabile. O ci fossi, o non ci fossi, o fossi sottosegretario alla presidenza del Consiglio, o non lo fossi, caro Mario Turco, per quanto riguarda l'Ilva, non c'è differenza. Contano i fatti, Turco, i fatti, quagliare, che poi tu fai le performance del libro dei sogni, ai Tarantini, non frega niente, non fotte proprio niente, caro Mario Turco. Scusami l'espressione volgare. Ma lo ripeto, un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e per quanto riguarda l'Ilva, scusatemi ancora la volgarità, Taranto sta nella merda. Questa è la realtà, caro Mario Turco, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alla programmazione economica e agli investimenti. Come si suol dire, Turco, peghi in carta e porta a casa, prendi in carta e porta a casa. Nulla di personale nei tuoi confronti, sei una persona per bene, ma i risultati, io e la cittadinanza, non li vediamo. Mario Turco, vuoi la prova di quello che io sto dicendo? Il governo italiano, del quale tu sei sottosegretario alla presidenza del Consiglio, non ha ancora finanziato il decreto per la cassa integrazione dei lavoratori Ilva in AS. Questo succede per la realtà di Taranto, caro Mario Turco, con te, che sei sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Allora, quando dico che la tua presenza è impalpabile e non produce i risultati invece che sarebbero necessari, ho ragione o ho torto, contra factum non valet argumentum. Questi sono i fatti concreti. Le tue argomentazioni evaporano, così, come evaporano tutte quelle promesse, quegli impegni che anche tu da candidato avevi preso. Parlavi, con i tuoi pentastellati, di chiusura progressiva delle fonti inquinanti. Qui Arcelor Mittal aumenterà anche la produzione. E questa sarebbe la riconversione di cui spesso parli, ma fammi la cortesia. Forse hai perso un'occasione per tacere, credimi. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.